Ciao a tutti ragazzi, finalmente vi mostro da parte dell'azienda di Cecotec un nuovo arrivato, ovvero il mambo, la versione 10.090, praticamente è un robot da cucina, ovvero la versione economica del bimbi. E' davvero bellissimo perché ha 30 funzioni, va a collegarsi con l'app del telefonino, ha una caraffa sia in ceramica ma anche in acciaio inossidabile da poter mettere anche nella lavastoviglie e infine ha anche la bilancia incorporata, quindi davvero bellissima e spettacolare. Adesso vi farò vedere nel dettaglio con tutti i vari accessori al suo interno e ringrazio appunto l'azienda Cecotec perché adesso d'ora in poi useremo questo robot da cucina e realizzeremo tantissime ricette. All'interno dello scatolo si trovano tantissimi accessori, veramente tantissimi, per cui adesso vi farò vedere all'interno. Vi è la programmazione con l'app, quindi direttamente dal telefono, questo è assolutamente bellissimo perché comunque tu puoi progettare e diciamo vedere tantissime ricette che adesso comunque vi farò vedere nel dettaglio. E in particolare appunto esistono diversi modelli di Mambo di Cecotec, io ho scelto questo di qua perché comunque è molto molto comodo e adesso andremo a vedere nel dettaglio. Mambo Cecotec 10.090 è questo modello, all'interno del pacco troviamo una miriade di accessori, tra cui anche il libretto delle istruzioni, ecco ce ne sono due, e poi c'è anche il ricettario che comunque è in spagnolo però comunque nessun problema perché comunque si capisce facilmente. E io per adesso sto installando, cioè più che altro sto configurando il robot da cucina nell'app, dove all'interno dell'app si possono trovare tantissime ricette, ovviamente in italiano. E potete aggiungerle anche voi man mano che comunque andrete a cucinare qualsiasi tipo di pietanza perché esistono anche gruppi su Facebook dove si scambiano comunque le ricette, quindi c'è facilissimo. Allora, vi dico subito cosa si trova all'interno di questo pacco, troviamo questo robot da cucina. Questo robot da cucina è multifunzione perché appunto come vi dicevo prima si può collegare con l'app e comunque trovare un ricettario molto molto ampio, quindi potete cucinare di tutto. Ha l'esclusivo cucchiaio Mambo Beat Mix che è proprio in silicone per andare a prendere tutto ciò che si trova nella caraffa. Dopodiché nel robot troviamo questa caraffa che è in acciaio inossidabile, quindi potete lavarla tranquillamente nella lavastoviglie, mentre qui abbiamo quella in ceramica, dove comunque bisogna fare attenzione a doverla lavare. E poi qui abbiamo anche questo cestello per bollire su quattro livelli che è all'interno di questo di qua in acciaio inossidabile. E poi ragazzi è davvero comodissimo perché questo robot da cucina che ha 30 funzioni praticamente può tagliare a pezzi. Possiamo tritare, soffriggere, macinare, polverizzare, fa anche la funzione yogurt, quindi possiamo fare il gelato, montare la panna, mescolare, impastare, può anche cucinare. Perché qui si può anche appunto cucinare il risotto, impastare la pizza e fare tantissime cose appunto a 30 funzioni. Si può cucinare anche a bagnomaria, si può anche bollire. Infatti all'interno del pacco si trovano anche queste teglie dove si può andare a cucinare fino a quattro piatti contemporaneamente. È davvero bellissimo perché comunque noi possiamo andare a cucinare il tutto in maniera veloce. Quindi grazie a queste teglie noi possiamo fare una miriade di piatti. Anche perché grazie all'app che ti guida passo passo possiamo rendere facile il tutto e quindi cucinare in maniera veloce e rapida. Anche perché potete avviare il tutto dall'app. E questa cosa che comunque alla bilancia incorporata è molto utile. Per esempio se dovessimo andare a fare il risotto possiamo mettere man mano, pesando, grazie comunque al robot di cucina che è la bilancia integrata, la possiamo andare a mettere tutti gli ingredienti piano piano senza bisogno di andare a misurare separatamente. Quindi questo è molto utile e poter avviarlo direttamente anche dopo, quindi con un timer. In particolare anche la funzione di velocità zero, quindi permette di cucinare e soffriggere senza bisogno di inserire la velocità, quindi come se si tartasse di una padella. Abbiamo anche il cestello per bollire, il cestello per poter cucinare il tutto a vapore. Questo mambo c'è Ecotec ha un sistema intelligente di potenza che oscilla questo calore da 0 a 10 livelli simulando proprio un fuoco tradizionale con la fiamma bassa, medio o alta. Quindi evita il surriscaldamento e impedisce che gli elementi si possano attaccare a bruciare, quindi davvero proprio come un fornello. E quindi va a sfruttare tutta questa potenza da questo robot da cucina senza dover richiedere il minimo sforzo, perché appunto come vi dicevo tramite l'app e seguire passo passo le ricette indicate, potete cucinare tranquillamente. La comodità che comunque anche se siete in un'altra stanza potete avviare il robot, quindi davvero bellissimo. E' tutto personalizzabile perché potete mettere anche le vostre ricette, quindi la sera o comunque quando avete dei bambini in giro per casa e non avete molto tempo, potete prepararlo al mattino, poi comunque all'orario di pranzo, quando tornate da fuori potete tranquillamente avviarlo. Allora praticamente il display è quello più digitale possibile, perché da lì possiamo anche, è abbastanza comunque intuitivo, perché comunque è touchscreen, si può impostare la durata, la velocità, il calore, la bilancia, quindi è molto utile. Come vedete sta lampeggiando il wifi, perché comunque è collegato alla rete wifi, quindi davvero utile. Inoltre dispone di 10 velocità, timer regolabile da 1 seconda a 12 ore, e la temperatura è configurabile grado per grado, che arriva da un minimo di 37 gradi a un massimo 120 gradi. Quindi ragazzi, acquistando questo robot da cucina, il mambo 10.090 all'interno troverete, innanzitutto ovviamente il robot da cucina mambo, la caraffa a bana con il risvestimento in ceramica, poi abbiamo l'altra caraffa in acciaio inossidabile, il cestello per bollire, poi abbiamo questa di qua che è la farfalla per poter impastare al meglio e cucinare, quindi questa va a girare e va a mescolare pian piano il risotto o qualsiasi altro tipo di piatto. Poi abbiamo la vaporiera a due livelli, quindi questi cestelli, che troviamo qua, e poi troviamo anche la spatola, il ricettario qui all'interno, e il manuale delle istruzioni, quindi è davvero bellissimo. Io ringrazio l'azienda Cieco Tech per questo robot da cucina, vi lascio il link qui sotto per poterlo acquistare, e niente ragazzi, quindi restate connessi, seguitemi che presto faremo tantissime ricette con questo robot. Grazie a tutti!